Ciao! 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 Insomma, tu sei stata fidanzata con Bastian? Fidanzata? Ci siamo frequentati per un paio di mesi! Ma lui è strano eh? Lei è strano? Come mai? Ma fa molto un sabato sera tranquillo, così dar niente mi fa! Eh, ma perché stasera non si sorti un po' po', si va a fare una beuta? Ma lo vuoi capire che c'è da levarsi alle quattro e mezzo domani? Magari alle quattro e mezzo? Per andare dove? C'è da andare per scacroglioli in bocca d'agno! E ci si andrà un po' pochino più tardi per una volta! Vabbè, che ha detto di così strano? Che ha detto di strano? Ma a te ci sei mai stato a bocca d'agno di domenica mattina? Eh, no! Alle cinque c'è già pieno di gente! Alle sei, non trovi neanche più un parcheggio! E lui questo lo sa bene! Ma aspetta, non è mia finita! Perché alla fine lui è uscito con gli amici e io sono ita a leggo! E poi? È tornata alle quattro! Io ero già pronta per uscire con la borsa delle anne e lo sai prima di andare via cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Via! Io voi eh! Tornerò stasera verso le 10! Vai! E... Buona pesca! E porta male di buona pesca, vai! Lo sanno tutti! Gli ho tirato un pattone nelle orecchie e gli ho detto! C'è con me! Ha chiuso! E lo lascia! No, effettivamente l'ha fatta grossa! Allora, voglio avere quattro sachini di tonno, cinque salmone, tre di spigola, sei olata, quattro di muggine, due anguille, cinque polpi, seppie, navioli, involtini, spaghetti gambele e verdure, ulamachi, nighili e pudumaki. Ma che larga, dove è tutta sta roba? Sì, ci abbiamo ancora un po' di famina. Grazie. Buon appetito! No, è finto. Buon appetito. Allora, stai mangiando bene? Ma sì, dai. Hai visto? Eri tanto scelto, e invece ti cava il mancante. Sempre lo scherzo di prima. Preferisco il cignaccio, però ogni tanto ci può stare ancora il sushi, per stare leggerini. Per stare leggerini, tu gliela posare il frigo. Ma è tutto pesce. Senti, ma un dolcino si piglia? No, no, io non ce la faccio più un scoppio. Ce l'avranno il castagnaccio? Il castagnaccio? Dai, giapponese. Gli si chiede? Venti, non ce l'ha. Dai, io chiedimelo. Io, chiedimelo a te. Scusi, c'ha mettermi il castagnaccio. No, via dai, chiedimelo a te. Voi l'aveva chiamato? Eh, si voleva due caffè. Ok. Non via. Come scusa? No, niente, è una ossa nostra. Senta, c'è la ragazza qui, vorrebbe sapere se vuoi avere il castagnaccio. Ah, no. Tu vuoi avere il calpaccio? No, no, ma va bene, lasci stare. Il castagnaccio, quello fatto alle astagni. Lo fa sempre anche la mia mamma. Ma sai, sai che l'ha la tua mamma. Mi pazienza. Ci potresti portare due caffè, per favore? Due caffè già segnato. Per me uno corretto è il Sambuca. Gianduia? Sambuca. Gianduca? Normale, un caffè normale. Ok, perfetto. Invece per me un cappuccino, un tazza grande senza schiuma, con lo zucchero di Anna e col cucchiaino, non con la palettina, eh, per favore. Se no si fa una ossa, i caffè si pigliano a casa, vai. Gianduce. Ciao. Ciao.